Allora cari amici avete scartato i regali come sta facendo Ami, il simpatico personaggio creato da tanti anni da Nicoletta Schachy che è anche mia moglie. Anch'io li ho scartati, ne ho trovati molti, simpatici, divertenti, però tra tutti questi pacchetti non ho ancora trovato il regalo che sto attendendo da molti anni, per il quale sto lavorando faticosamente, ma mi auguro che prima o poi arriverà questo regalo. In ogni modo l'ottimismo non manca mai, la fiducia nel futuro non manca mai e auguro che per voi e anche per me questa giornata e le prossime giornate di relax siano un antipasto giusto per affrontare un 2016 pieno di tante nuove e mirabolanti battaglie. A presto A presto Grazie. Grazie.